La Fesica torna a denunciare in un'assemblea pubblica i soliti problemi dei lavoratori che prestano servizi tramite cooperative per la Aslo 1, come quello del portierato, pulizio, gli amministrativi, assemblee alla quale hanno partecipato anche diversi politici aquilani. Marcello Vivarelli, segretario provinciale Fesica di Teramo e segretario di categoria dell'Aquila, dal 2019 porta avanti la sua battaglia per chiedere di internalizzare i servizi della Aslo 1. Lavoratori, circa 200-300 nella sola Aslo 1, che svolgono diversi servizi e che hanno la clausola sociale e che secondo Vivarelli dovrebbero essere riassorbiti da una società in house di proprietà della regione per ridare dignità, anche salariale e un futuro, a lavoratori e famiglie che vivono nel precariato, anche perché ad ogni cambio appalto devono ricominciare da capo. Lavoratori che per Vivarelli fanno anche molte più ore rispetto a quanto stabilito, fatto che poi non ha conseguenze a livello pensionistico. Re-internalizzare i servizi con una società in house che la regione ha già e quindi Abruzzo Engineering, basterebbe allargare, ambliare lo statuto e quindi poter re-internalizzare i servizi. In termini di risparmio sono molti soldi dove la regione risparmierebbe per le Asle abruzzesi. Una cosa molto grave è quella di prendere e assumere i lavoratori con contratti a 20, 25, 15 ore e poi farli lavorare a pieno regime e quindi risparmiare anche sulla contribuzione, visto che oggi la forma pensionistica è contributiva e non è più retributiva. E questi molti lavoratori non ne sono a conoscenza. Il sindacalista spiega pure che c'è stato un tavolo permanente convocato dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri che non avrebbe affrontato per lui questi problemi. Alla politica oggi i lavoratori e il sindacato chiedono un impegno forte e senza colori.